Sono un loro osservatorio astronomico, su una scala antincendio, Chiara le ha detto che è pulita chi ha smesso, E non c'è alternativa al futuro. E rientrando in casa appena dentro si sentono benissimi i rumori, le voci degli altri appartamenti. Ma è tutto perfetto. È tutto perfetto. E forse si trattava di accettare la vita come una festa, Ma visto in certi posti dell'Africa, E forse si trattava di affrontare quello che verrà, Ma una bellissima riserva e nessuno si ricorderà. Forse si trattava di dimenticare tutto come in un'altra guerra, E di mettersi a badare fuori dai parco, Ma visto in certi posti dell'Africa, Forse si tratta di fabbricare quello che verrà, Con materiali fragili e preziosi, Sembra sapere come si fa.